21. Confucio Confucio, 551-479 a.C. Filosofo cinese, il suo insegnamento inedito nella Cina del VI-V secolo a.C. suggerisce una concezione etica della vita umana. In massime dice Gli antichi erano molto cauti nel parlare perché si sarebbero vergognati se le loro azioni non fossero state all'altezza dei discorsi. 4.22 Commento L'evoluto di ogni tempo e di ogni luogo è colui che indaga sulle vite e ne intuisce le profondità. Grazie. 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 Grazie.